buongiorno ragazze buongiorno a tutte e a tutti allora nuovo video pulizie perché pulite la mia camera di nuovo voi direte ma di nuovo perché perché ragazze ne voglia comunque nulla io adesso mi accenno a pulire la mia camera dunque come state spero bene e niente io intanto vedete un po come ho detto un disastro quindi si dedichiamo a presa il mio letto perché tutto il resto ce l'ho fatto ieri questa è la seconda parte del video che faccio perché già ho fatto ieri un dito stralungo non so quanto verrà lungo anche questo ma non fa nulla perché io lo accorcio come fatto con quello di ieri sì lo so molto lo stesso lungo ma stavolta sto registrando avuto un altro telefono a parte ovvero non ve lo dico però già l'avete intuito ma opposte no comunque non importa adesso io vi lascio ci vediamo a fine video ok a presto ciao 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 allora ragazzi mie ho pulito tutto perché l'altra parte di questa parte qui questa zona qui questa è pulita compresa di questa qui la scrivania è tutta bella pulita si poi ho pulito anche il letto se l'avete visto che l'ho fatto si vabbè qua ci sta una maglia che tra un po devo mettere perché è meglio fare la doccia ovviamente e quindi nulla è tutto a posto comunque adesso vi giro la telecamera e vi faccio vedere quanto non dico sistemato che sa quanto bene però un minimo di decenza ce l'ha sta camera più o meno ora vi giro la cam attendete un attimo allora come vi dicevo qui in questa parte qua è tutto bello sistemato scusate se ballate ma non so come tenerli altrimenti poi qua è tutto bello sistemato qui non è sistemato nel senso che non ho sproverato si ho sproverato e ho rimesso tutto per com'era ho sproverato bene più o meno più altro sono riuscita a darle un minimo di decenza e poi si di mettere a posto di farlo sembra un po più normale la situazione perché prima era tutto un po disordinato tutto il resto aspetta un attimo dunque allora qui era tutto un macello vi stavo dicendo e ho sistemato sì quella non ci fa niente di qui dove sta da un'altra parte della mia postazione trucco ma al momento ho messo le veline struccanti ma anche per pulire il naso che ovviamente uso solo per togliere di swatch non solo verso il fiume il naso ma dettagli questa l'ho messa qui provvisoriamente questa e tutto il resto è come l'ho lasciato nel senso che l'ho rimessa a posto come come lo faccio sempre che volevo cambiarli tutte queste robe qui insomma gioielli portagioielli scatole scatolette scatole queste cose qui i trucchi e portatrucchi metterli in maniera un po più diversa ma alla fine ho detto no lascio tutto per come era impostato prima e poi ovviamente lascio così ho sproverato poi vi dicevo ho rimesso com'era tutto quanto anche di qui ho messo com'era tutto il resto e vabbè fin su non ci sono arrivata ragazze no qua descriverò non per il mio osso del collo perché provvedete da terra quanto è alto quindi anche no quindi sono arrivata di qua ho pulito tutta la posizione trucco barra computer qua sopra ovviamente questo angolo quest'angolo qui questo angolo lo dice quest'angolo poi qua niente perché ragazze io non ce la posso fare c'è un po di farmi male quindi è un po anche su non vedete qua sarà una polvere che c'è da morire quindi ecco i tornuti dove provengono dopo chiamare qualcuno per farmi aiutare a pulire qua perché ho mio zio o mia zia perché sicuramente io ci muoio a salire fin quassù la scala io non la posso prendere perché sapete in un problema che io ho problemi alle mie ginocchia quindi no non fa voi direte perché perché ragazze io ahimè sono nata con una malformazione congenita alle mie ginocchia quindi non nel caso di farmi male ancora di più vi dico sono stata pure operata le ginocchia quindi a un ginocchio però la situazione non è cambiata è sempre la stessa quindi sempre bene che mi dedico a pulire dove ci arrivo per non farmi male in tutto e per tutto ok quindi sono arrivata fin qua e vi basta fin qua vedete poi qua qua sopra e basta poi qui vabbè qua ci sono sempre le stesse cose non ci fate caso qui devo cambierò giorno nel senso che però tutto in un altro momento perché qui è tutto un casino quindi no comment si lo so vedete la ceretta perché non so dove metterlo il fornellino della ceretta ti cambierò posto non so dove metterla ancora ma si vedrà un po al momento poi in un altro momento di questa ceretta qua questa sì questa qua poi qua è tutto bello a posto e lì vabbè vedete le stampelle ma perché vi ho appena spiegato il perché e nulla allora qui invece c'è tutto il resto da fare da pulire ma ho già pulito ieri e a questa mani non quando mi sono alzata ma quando mi sono alzata ero in un barume di sonno quindi ho molto sonno quindi mi ha fatto tutta la bella colazione cin tutto il resto e qui vi stavo dicendo ho sistemato come ho potuto se vedevate il telefono messo un po così era perché eravate posizionati proprio qua sopra comunque niente qui ho sistemato tutto ho messo tutto a posto per come era perché il computer lo lascio lì e li deve restare telecomando e così via come potete vedere tutto bello sistemato si se vedete la telecamera che qui con la mascherina perché non so più di mettere la roba anche da questa parte aspettate allora qua ci vedete cavalletto perché di tanto vi dico che registro con un altro dispositivo ma qua non vi sto più a spiegare perché se no vi annoiate comunque qui c'è tante altre cose ovvero c'è il mio porta beauty con tutta la mia skin care che ancora da utilizzare per su prodotti nuovi cioè sarebbero campioncini in pratica ma ancora non so quando non ho l'attenzione non so quando avrò l'intenzione di utilizzare questi campioncini che mi sono stati omaggiati un po da parenti un po in negozio un po in farmacia e così via comunque qui c'è tutte le cose che uso abitualmente non che la solo fotocamera ma fazzolettini vabbè lì un libricino di preghiera queste cose così ovvero un quadro di padre e figlio mini quadro in cartoncino poi vabbè un quadro del mio idolo e altre cose varie comunque questo comodino già vi preciso che è stato bello sproverato pulito e rigenizzato in continuazione così faccio ogni mattina quando apro la finestra quando apro la finestra mi faccio il mio bel lettone poi niente dunque qua o come si dice da più la finestra fare entrare un po d'aria ma tutto questo sarà dopo quando mi avrò fatto la doccia perché nel frattempo mi faccio la doccia e voglio un po di aria calda in casa si dà il caso se vedete questa come si chiama questa coperta barra piumina non so come chiamare perché la notte io freddo quindi me la metto sotto il siderino perché freddo quando guarda la televisione si se state chiedendo se guardo netflix non lo guardo perché non so come si fa ad utilizzarlo per entrare su netflix sono entrato una volta ma non per volere mio ma perché è venuto tecnico a gestarci la tele modello cose lui e quindi ho voluto vedere come funzionava netflix ma io da sola non so come fai a funzionarlo cioè come attivare netflix si per l'amor di dio è già attivo ma io non so come funziona quindi evito di toccare e fare pasticci e nulla adesso io vi saluto ci vediamo dopo allora ragazzi miei tra poco mi faccio una bella doccia già vi dico che come come vestiti qua ho già preso tutto ovvero mi ha preso questa maglia qua dove l'ho messa aspettate un attimo vabbè a parte questa che mi devo vestire questa qua della di di pool no non so di chiama che sia a brooms vabbè non c'è scritto ma eccola qua brooms ce l'ho da quando ero alle medie se non erro e ancora stranamente mi va bene quindi ok poi vabbè a parte lontana che non so ne vediamo nessuno le calze che ci servono per vestirmi poi questa maglia intima perché è la maglia della salute questa regalata da mia nonna ovviamente sì se vedete questa marca è proprio lei ragno è molto famosa non capisco perché ma vabbè dettagli poi mi devo mettere questa qui che è una maglia che non mi ricordo di che marca sia ma non mi importa nulla non lo so di che marca sia poi forse non so se cambia pantalone o meno ma ho deciso di mettermi il pantalone tuta della bombrix questo qua che deve molto comodo non è freddo perché io freddo ne ho ma ben poco sulle gambe di meno perché tanto poi uso il cappotto esco fuori a fare una passeggiata quindi va bene sempre che non sempre che non faccia brutto tempo speriamo di no perché la giornata oggi non è malaccio dai può andare secondo me comunque nulla ora mi vesto nel senso che mi faccio prima la doccia mi faccio tutta la mia skin care corpo e viso e poi ovviamente anche i capelli perché mi devo lavare i capelli come giusto che sia perché non faccio vedere più in condizioni sono ma mi schiaffo in doccia poi rimedio a vestirmi truccarmi e via dicendo quindi non lo so ci vediamo dopo ciao ragazze a presto anzi al prossimo videoclip e comunque niente a presto ragazze come balsamo utilizzerò sono ancora in camera si come balsamo utilizzerò questo del elvive olio straordinario della l'oreal e ce n'è 200 mille di prodotto mi piace già sta cominciando a piacermi vedete cosa c'è scritto qui e quindi buona permanenza in doccia a me comunque come bagno schiume utilizzerò sempre questo che mi sta piacendo un casino e dell'acqua di cacco e monoi della vidal sto parlando della vidal bagno schiume body wash acqua di cocco e monoi quindi nulla rinfresca e idrata mi piace da morire è fantastico non mi stancherò mai dirlo mi piace da matti quindi a dopo ciao ci vediamo dopo allora ciao ragazzi allora eccomi qua tornata dunque ho utilizzato questa spazzola per pettine i capelli ma vabbè questa qua sarebbe e nulla mi ci trovo stra bene tira un po capelli fa un po male ma i miei capelli sono quelli che sono sono ribelli ci vorrebbe la tagging un teaser scusate i capelli ma vabbè ma non mi va di comprare online e mi fido di più aver preso questa e boh e vabbè poi come altro prodotto per applicarlo sui capelli ho utilizzato questo della testa nera gliss e mi è piaciuto un sacco mi sta piacendo alzo un sacco e l'ho utilizzato per ammorbidire i capelli del 75 mila di prodotto e mi piace davvero tanto molto buono e ve lo consiglio perché perché i capelli come miei è top veramente molto buono top top mi piace davvero tanto e niente ragazze io adesso mi devo non dico truccare ma sistemare queste sopracciglia del cavolo che ho e poi se riesco a scoprire mi dirò anche in casa vediamo perché sono già le 11 non vorrei che si facesse già a mezzogiorno quindi mi devo sbrigare a dopo allora eccomi qua io sono già bella pronta per uscire e niente questi come sono vestita adesso e ovviamente ho la mia bella mascherina per uscire e ci ho anche la mia bella borsa ecco che non me l'andosso tanto quella vedrete quando esco di casa bene ragazze ci sentiamo dopo quando esco se riesco a riprendere qualcosa non lo so ma dopo ragazze allora eccomi qui dunque sono appena uscita di casa e vi avevo promesso che si portavo un po' con me dunque adesso mi percorro lungo la strada perché sono una lontana di madre non so non credo che io per me non credo che io per me non credo che io mi porto un po' con me però vabbè mi porto un po' con me e niente mi vedete se sono chiari perché si affanno alla continuazione quindi è un po' un casino ma tendo gli occhiali a tosse non vedo che non voglio gli occhiali sono questi ma fatevi vedere gli occhiali in mano e nonna io vi lascio a dopo e niente ci vediamo dopo ho l'altro 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 è sitta da un'altra l'altro 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 è e questo è un'altra l'altro e questo è un'altra l'altro andato un'altra la luce avicare la la lo la Grazie a tutti. 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 Va bene così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un bacione. Un bacione. Buona vita a tutte e... Grazie a tutti.